Che fastidio questi cittadini che votano in Italia il Movimento 5 Stelle, in Gran Bretagna votano per uscire dall'Unione Europea, in Francia addirittura votano la Le Pen e in America votano Trump. Ora, Trump non sarà di sicuro il migliore presidente degli Stati Uniti d'America, forse sarà anche il peggiore, non lo so, lo vedremo, non tocca a noi adesso dirlo, però ha in mano un tagliando elettorale, che è un qualcosa che si inizia a mettere in discussione, c'è chi parla di un imbarazzante problema legato al suffraggio universale, beh è esattamente quello che sta accadendo in Europa, dove le elite decidono chi deve guidare il progetto o il sogno, dipende dai punti di vista o l'incubo, dell'Unione Europea. Ecco, Trump ha almeno un tagliando elettorale, ha vinto delle elezioni, quelle elezioni che ci hanno fatto stare svegli stanotte. Bene, l'Europa non ha passione più per niente, quanto all'Italia, beh dopo Monti, dopo Letta, dopo Renzi, beh il fatto di poter avere un presidente del Consiglio con un tagliando elettorale in mano, finora è soltanto un miraggio, a meno che basta un sì per toglierci pure quello, definitivamente.